Buongiorno, eccoci a lezione 42 in cui tratteremo delle relazioni che sussissono tra i coefficienti dell'equazione in secondo grado e le soluzioni dell'equazione in secondo grado. In particolare consideriamo una generica equazione, la classica x alla seconda più bx più c uguale a 0 con a b e c numeri reali, qualsiasi e a diverso da 0. Ci sono delle relazioni tra i coefficienti a b e c e le soluzioni dell'equazione. Noi affronteremo le relazioni che ci sono tra la somma e il prodotto delle soluzioni e i coefficienti e la somma dei quadrati e dei reciproci delle soluzioni. In particolare per la somma e il prodotto delle soluzioni troveremo un legame con la scomposizione mediante il trinomio speciale e la risoluzione dell'equazione in secondo grado mediante questa scomposizione. Allora proviamo a scrivere banalmente la somma tra le soluzioni usando la formula risolutiva quindi meno b meno radice di delta fratto 2a più meno b più radice di delta fratto 2a e vediamo che la relazione che c'è tra la somma generica delle soluzioni vale meno b fratto a. Quindi in generale le soluzioni di un'equazione di secondo grado se sommate sono in relazione con meno b fratto a cioè meno il coefficiente della x fratto il coefficiente della x alla seconda. La stessa cosa posso fare per il prodotto e vedo che la relazione che sussiste è c fratto a. A video vedete anche la dimostrazione molto semplice di queste due formule. Analogamente posso fare per la somma dei reciproci quindi 1 fratto x1 più 1 fratto x2 cioè il reciproci delle due soluzioni che sono in relazione appunto con la somma e con il prodotto perché basta sommare quelle due frazioni in maniera proprio molto semplice e viene fuori che la somma dei reciproci è meno b fratto c. Come utilizziamo queste due informazioni cioè la somma e il prodotto delle soluzioni? Beh, se noi torniamo alla nostra equazione generica x alla seconda più bx più c uguale a 0 e ad esempio dividiamo tutto per a cioè il coefficiente x alla seconda ci troviamo ad avere x alla seconda più b fratto a x più c fratto a uguale a 0. Che cos'è questo? Siamo nelle condizioni di scomporre questo trinomio che ho appena detto di secondo grado mediante il trinomio speciale cioè io devo trovare due numeri che sommati diano meno b fratto a e moltiplicati diano c fratto a e che cos'è questo? Beh, è esattamente come scrivere x alla seconda meno la somma delle soluzioni vedete? Più il prodotto E questo perché? Perché banalmente se io vado a scomporre un polinomio io devo cercare due numeri che sommati diano b fratto a e moltiplicati c fratto a e pensate ad esempio al polinomio x alla seconda più 5x più 6 beh, i due numeri sono x più 3 per x più 2 e vedete che il prodotto rimane 6 rimane lo stesso la somma tra i due è 5 che corrisponde esattamente a meno la somma delle soluzioni perché le soluzioni di quel polinomio che ho appena detto sarebbero meno 3 e meno 2 anzi sono meno 3 e meno 2 e quindi vediamo come la risoluzione di un'equazione mediante la scomposizione si accorda banalmente con la formula risolutiva non poteva che essere così ci sono altre formule che riguardano la somma dei quadrati delle soluzioni e la somma dei reciproci dei quadrati e che sono queste diciamo che vedete scritte qui a video dove s vuol dire la somma delle soluzioni e quindi s quadro meno 2p dove p sta per il prodotto delle soluzioni dove la somma, l'abbiamo detto prima era meno b fratto a e il prodotto era c fratto a useremo queste formule in particolare per la risoluzione delle equazioni parametriche di secondo grado e per diciamo rispondere in termini generali alle proprietà che deve avere un'equazione di secondo grado non determinata cioè non con dei coefficienti numerici ma con dei coefficienti variabili ovvero appunto come dicevo le equazioni parametriche vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima lezione e alla prossima lezione e alla prossima lezione